Avete presente il gioco dei Mikado, tutti questi bastoncini che si costruiscono e bisognerebbe non farli cadere? Cosa succede se oltre a non farli cadere magari ci si fa anche qualcosa in più e se magari sono anche colorati? Risponde per noi Stefano che rappresenta gli Stiker che con tantissimi steli colorati e bellissimi ha illuminato di colori una delle piazze di Montebellona. Stefano presentati, che cosa fai e cosa avete combinato qui oggi con noi? Sì siamo molto contenti di essere qui con voi a Combinazioni Festival in questa piazza con queste persone che poc'anzi ci hanno aiutato a costruire questa installazione che è un'installazione colorata ai colori della pace ma non solo della pace e partecipata, inclusiva. Di fatto è un gioco di costruzione insieme, di costruzione come dire reale, di un'installazione ma simbolica anche di comunità, di relazioni, dello stare insieme. Al di là delle barriere culturali, di ogni background è un modo per stare insieme pacifico, creativo, artistico. Si chiama Steli, è un gioco che abbiamo inventato a partire da una ricerca che abbiamo fatto al Castello di Rivoli. Il Castello di Rivoli, noi siamo di Torino e appunto a Rivoli in provincia di Torino è il primo museo d'arte contemporanea in Italia e custodisce delle opere molto interessanti, tra le più belle che ci sono in Italia. Noi ci siamo ispirati a queste opere, abbiamo fatto una ricerca su alcune di queste opere custodite al Castello di Rivoli e anche in altri musei di Torino e abbiamo creato un ciclo di performance, di spettacoli, uno di questi appunto Steli. Torino è particolarmente privilegiata rispetto all'arte contemporanea. Proprio a Torino nasce il movimento conosciuto internazionalmente che va sotto il nome di Arte Povera e lì hanno lavorato a Torino, hanno lavorato artisti come Michelangelo Pistoletto, come Gilberto Zorio, come Mario Merz e tanti altri ancora con cui abbiamo avuto la fortuna di lavorare. Diciamo che in questo habitat cresce il nostro lavoro e di fatto è profondamente ispirato all'arte contemporanea. Grazie, grazie mille. Il nostro festival quest'anno Libertà va cercando riguarda la libertà. E io ho visto tante persone che liberamente hanno preso parte a questa performance, di cui in realtà non sapevano l'esistenza perché noi ci siamo semplicemente impossessati della piazza. Ovviamente avevamo avvisato tutte le autorità competenti, però il pubblico non se lo aspettava. Chi cercava un po' dei nostri eventi è venuto qua, chi invece era solo di passaggio è stato inglobato. Le persone di solito come reagiscono e questo che cosa ha a che fare secondo te e secondo voi con l'idea di libertà? Le persone reagiscono come sempre in modo molto diverso a seconda delle latitudini e delle longitudini di appartenenza. Questo lavoro è particolarmente fortunato perché è stato dappertutto in Europa e anche oltre. Questo lavoro è finito come anche altri in Sud Corea, in Cina, in Russia e puoi immaginarti a Hong Kong, puoi immaginarti quali e quante differenti relazioni, reazioni, sensibilità si affrontano, appunto dicevo spaziando nelle longitudini e nelle latitudini del mondo. Però di fatto siamo tutti umani e l'umano ha questa bellezza della necessità dell'incontro, della necessità della socialità. Siamo ontologicamente formati, costituiti, predisposti a stare insieme agli altri e stare insieme agli altri in modo tendenzialmente armonioso. Chiaramente esistono delle eccezioni e il mondo è pieno anche di queste eccezioni che sono tristemente famose, ma mediamente la maggior parte di noi è portato per indole a essere in relazione armoniosa con gli altri. La libertà in questo senso può avere a che fare con lo stare insieme, il costruire relazioni sensibili e armoniose. La libertà anche in questo caso del gioco di poter agire o meno, di entrare a far parte o meno, di stare ad osservare. C'è una distanza che può permettersi, chi assiste a questo gioco, che è una distanza variabile. Puoi stare molto vicino, entrare dentro, giocare, costruire, puoi stare un po' più lontano, puoi aiutare, puoi guardare, puoi osservare. Questa relazione di prossimità che ha distanze variabili è una forma di libertà di questo lavoro. Ti ringrazio, tra l'altro avete inglobato anche me in quest'opera in costruzione e mi è piaciuta tantissimo sia la collaborazione con gli altri, perché di fatto sei lì in mezzo ad altre persone che non conosci, ma dovete costruire insieme questa cosa e anche senza rimanere incastrati. E prestando molta attenzione all'altro, perché di fatto abbiamo questi steli enormi in mano e che muoviamo e bisogna stare attenti a non colpire gli altri. Quindi è stata davvero un'opera di collaborazione che mi è piaciuta tantissimo e vi ringrazio per averla portata al nostro festival. Ringrazio chi di voi ha partecipato e ha costruito questo bellissimo capolavoro e in realtà questo capolavoro è stato smontato subito, perché naturalmente ogni volta si costruisce un'opera nuova. Per costruirne una anche voi seguite questa meravigliosa compagnia e tutti i loro lavori e così potete costruire anche voi un briciolo di libertà che farà parte del nostro festival. Libertà va cercando, non finisce qui, stiamo continuando a trovarla e grazie per averci aiutato a farlo. Grazie a te e grazie a voi. Alla prossima! Grazie a tutti!